Prima di abbracciare una tensione culturale o una tensione sociale, che dir si voglia, la riflessione da fare è, c'è nel DNA di quella marca, c'è nel suo capitale narrativo, la possibilità di ancorarsi a quella tensione? Ma non perché hanno già fatto in passato qualcosa, ma perché c'è da qualche parte nascosto, molto spesso è nascosto, il pretesto narrativo per poterselo permettere. Se non c'è te lo puoi anche inventare, ma non lo puoi veramente improvvisare. L'attenzione culturale non è obbligatoria, sia chiaro. Se è una marca non se la può permettere, non la abbracci, non gliela metter dentro a tutti i costi. Se la tua industria, se l'industria a cui tu fai riferimento è attraversata da una potenziale tensione culturale, allora tu sei tenuta, marca, a capire se ti puoi affacciare su quel tipo di racconto o meno. Prima lo fai meglio è, perché comunque il percorso è lungo. La marca crede che il mondo sarebbe un posto migliore se... Questo è l'equazione di una corretta tensione culturale. La marca crede che il mondo sarebbe un posto migliore se... e poi fai fare qualcosa. Alla marca, non alla pubblicità della marca. È una cosa un po' diversa. Quando io vi chiedo di ragionare sui comunicati stampa, vi chiedo di ragionare sulle azioni, non sui messaggi. Invece nella maggior parte degli esercizi, dei laboratori, degli insegnamenti, la preoccupazione è quella di andare a scrivere. Che va benissimo, però prima bisogna impiantare un atteggiamento progettuale che sia nutrito da questo tipo di sensibilità. Che non è... intanto non ha nulla a che fare con l'etica. Cioè, anche questo sbandieramento dell'etica. Cioè l'etica è una parola nobile, molto importante. Noi continuiamo a fare profitto. Non c'è del filantropismo. C'è un modo, però, di fare profitto più contemporaneo. Le nuove generazioni accelereranno molto questo processo di trasformazione. Trasformazione progettuale. Poi la nostra capacità dovrà essere sempre quella di avere delle buonissime idee e di saperle scrivere in maniera straordinaria. Da queste due cose non è possibile transigere. Cioè queste due cose devono andare di pare passo. Ma io su queste due cose non posso intervenire. Se voi non siete capaci di avere idee, io non vi posso insegnare ad avere idee. Si può imparare a scrivere meglio di quanto non si faccia. Ma quello che mi interessa e quello che credo abbiamo attraversato in queste settimane è l'atteggiamento. L'atteggiamento progettuale. La marca crede che il mondo sarebbe un posto migliore se provate a farlo ogni volta che potete. Ogni volta che potete. Fatelo con l'azienda che avete tra le mani. Con l'azienda in cui lavorate. Con il lavoro che fate. La domanda chiave da cui partono i brief scritti meglio, quando sono scritti bene, è non è a chi ci rivolgiamo, obiettivi di marketing, obiettivi di comunicazione, il consumer insight. La vera domanda chiave da mettere in testa al brief, la prima domanda da fare, io l'ho imparata dai progettisti della Apple, è Come vogliamo che si sentano? Nella peggiore delle ipotesi questo è un mestiere destinato a scomparire. Nella migliore delle ipotesi è un mestiere che si sta complicando tanto. E che richiede competenze molto più ampie, che richiede sensibilità completamente diverse rispetto al passato. E che è molto più difficile. Per me è molto più complicato scrivere per sentirmi dire poi ma chi ce l'ha fatto fare? Cioè, sia io che il mio cliente lavoreremmo molto meno facendo le cose in modalità tradizionale, molto meno sbattimento, lui non mi chiamerebbe per dire ma chi ce l'ha fatto fare. Però quando ti chiama per dirti chi te l'ha fatto fare, secondo me sei sulla strada giusta.